Marco Zaletti ce l'avete messa tutta, però loro forse sono partiti molto meglio oggi e poi voi alla distanza siete venuti fuori, però non è bastato. Sì, forse è stato quello che ci ha fregato, siamo partiti un po' così così, loro hanno spinto un po' di più, sapevamo che era una buona squadra, anche oggi si è visto, e alla fine abbiamo spinto un po' di più di loro, non abbiamo proprio usato tutto quello che avevamo, però non siamo riusciti a portarla a casa purtroppo. L'ultima domanda, poi ti lasciamo andare via, loro forse avevano paura di dover giocare la partita decisiva martedì sera, quindi volevano chiudere a tutti i costi? Sì, quello si è visto, purtroppo non ce l'abbiamo fatta, ci sono state cose negative, però parlo per me, almeno la mia stagione è stata grandiosa, con la sono molto contento, peccato aver finito prima, volevo andare un po' più avanti, però ho avuto tante emozioni nel corso di questa stagione e sono felice con lo stesso. Ti faccio in bocca al lupo e tanti auguri per il Mondiale che parteciperai con l'Italia. Grazie mille, sì, speriamo. Grazie, grazie Marco. Grazie a voi.